Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Andiamo oggi a iniziare questa serie di video sugli schemi elettrici fondamentali che in genere si fanno in laboratorio scolastico. Quindi ci concentreremo sui 4-5 schemi che vengono comunque contemplati in laboratorio e soprattutto su quello che è lo schema funzionale che ricordiamo è uno schema che prevede di avere la linea, cioè la fase nella parte alta, il neutro nella parte bassa e si sviluppa in verticale, lo schema unifilare e poi lo schema di montaggio. Esistono altri tipi di schemi ma diciamo che questi sono quelli principali. Lo schema funzionale lo vedremo anche poi con la simulazione del cadesimo. Allora, ci vediamo tra un attimo, intanto vi disegno i due schemi. Bene, qua abbiamo i due schemi, quindi vedete schema funzionale, in alto la fase o la fase mettete la L di linea, in basso il neutro e vengono sviluppati in verticale in questo modo. Il segno dell'interruttore, il segno della lampada con le rispettive lettere. Per quanto riguarda, conviene, ma consiglio io, non è che sia necessario, ma specialmente poi per quello che è riferimento del montaggio, quindi effettivamente di realizzarlo in laboratorio, di fare attenzione al discorso dei colori. Ovviamente sappiamo la fase deve essere o nero, o marrone o grigia, il neutro deve essere azzurro o blu e anche ciò che è il collegamento, che prende diciamo il cavo dalla fase, va all'interruttore e poi rispettivamente dal neutro alla lampada, di prenderli dei colori corrispondenti e, mentre ovviamente quello che è il collegamento tra la seconda parte, secondo il collegamento dell'interruttore, diciamo l'uscita dell'interruttore e la lampada, invece, beh, qui l'ho disegnata in nero, ma in realtà non si devono utilizzare né nero marrone, nero marrone grigio e né quindi i colori della fase, né il colore del neutro azzurro e né colori ovviamente del giallo verde che è la terra. Nelle lampade normali, che non sono metalli, che non hanno componenti metalli, che non è prevista la terra, dove è previsto ovviamente ci deve essere il collegamento. Per quanto riguarda lo schema unifilare, ci sono le due cassette, vengono indicate le due cassette di derivazione e i trattini che trovate sul unifilare, proprio perché si usa un unico filo per indicare i conduttori, vengono, con questi trattini vengono indicati quanti cavi ci sono all'interno, quanti cavi vengono indicati. In questo caso passano due cavi, uno della fase e il neutro viene indicato con una freccina. Quindi da qua arriva, ricordiamo che i cavi sono da 1,5 mm quadrati, quelli per le lampade, insomma tutto per tutto quello che è l'impianto diciamo a 10 A. Allora, per quanto riguarda invece, quindi alla lampada arriva ovviamente fase neutro e per quanto riguarda invece l'interruttore, quindi interruttore in questo caso unipolare, quindi che interrompe solo la fase, vedete che qua avete i due cavi con solo la fase, quindi l'interruzione sulla fase poi si ha il proseguimento. Vediamo lo schema di montaggio, quindi vi disegno qua sotto come se ci fossero delle cassette di derivazioni, andiamo a vedere come realizzarlo. Bene, supponiamo di avere qua le nostre cassette e di avere tra una e l'altra le varie canaline. Per prima cosa noi dobbiamo andare, consiglio sempre di andare a seguire lo schema funzionale che è quello che ci illustra meglio il funzionamento. Allora adesso a questo punto qua, mettiamo qua il nero e qua ad esempio possiamo dare un colore diverso in modo da capire un attimino come muoverci. Allora, noi partiamo dalla fase, quindi partiamo dalla fase, seguiamo a scendere i vari passaggi e arriviamo fino al neutro. Sappiamo che quando siamo arrivati al neutro abbiamo finito il nostro percorso, quindi da qua io vado a prendere la mia fase, la porto alla prima cassetta, facciamo un po' più sottile, la porto alla prima cassetta di derivazione, se voglio qua vado a disegnare il mio nodo, ovviamente ci saranno i connettori per quanto riguarda il laboratorio e questo lo porterò al mio interruttore che ha due morsetti, un morsetto L e il morsetto 1, a seconda poi se lo guardate da davanti o da dietro, comunque ovviamente i morsetti li trovate dietro e ci sono gli schemi, quindi la fase o linea la portata all'L, così siete sicuri che questa è la linea e questo è il neutro. Quindi siamo in questo primo pezzo qua. L'uscita quindi tra L e 1 è dove c'è l'interruttore, quindi qua avremo praticamente la L e la mia entrata e l'1 e la mia uscita. Quindi esco di qua e devo andare alla lampada, quindi io faccio il mio collegamento, a questo punto va bene, prendiamo ad esempio il cavo arancione, farò il mio collegamento da qua e lo porterò tramite una canalina alla mia lampada. La lampada ovviamente potete prendere uno o qualsiasi dei due capi della lampada, quindi non è un problema. L'altro capo della lampada dovrà andare al neutro, quindi la lampada dovrà andare, ad esempio posso usare la stessa canalina, quindi ovviamente qua farò questo discorso qui. Qua non è collegato a niente, ma giusto per farvi capire che passa nello stesso punto, quindi nelle stesse canaline da una cassetta all'altra. in questo modo qua sono arrivata al capolinea, quindi al neutro dall'altra parte, quindi posso collaudare il mio schema e quando andrò ovviamente a dare alimentazione, chiuderò l'interruttore e vedrò che la lampada si accende e si spegne. Quindi due posizioni molto semplicemente. Quindi ricordate sempre che la cosa importante è quella di partire dalla fase, fare il mio percorso ed arrivare al neutro, specialmente in questi primi dove c'è praticamente un percorso solo. Bene, spero sia tutto chiaro, vi faccio vedere la simulazione col cadesimu e così da farvi vedere appunto visivamente che cosa succede. Bene, ecco qua lo schema col cadesimu, qua abbiamo il nostro interruttore, L1, la lampada, faccio partire la simulazione, qua chiudo, la lampada si accende, apro, quindi due posizioni on off, molto semplicemente. Bene, spero sia tutto chiaro, fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo al prossimo video!